Allora bentornate, non c'è lenticchia stasera, ma vi piacciono, vi piacciono che si sono bellissimi, vi piacciono no Loretana? Sì abbastanza. Chi si sa quei mannau? A sera io ho quei mannau, ma ci sono altre due piatte a fantasia perché da sera io l'ho scelto fra tutti. Mi do anche le mie mie di casa se vuole. No Lori, Lori amò, è in dintaria proprio. E' sempre qua mannau. Allora vi faccio vedere la cena di stasera, allora. Amor chi sono queste cose, chi sono? Queste sono patate al forno, cucinate, no, queste sono cucinate col pollo, cioè il pollo che cola tutto, va bene. Poi queste sono alette di pollo, belloredana, belloredana, belloredana. Lori, ora ti puoi cominciare a pigliare. Questa è salsiccia di pollo con cipolla al forno. Ma questa perché è per Deborah? Deborah, tu l'ora, tu dici. Ma magari chi si è su di tutti? Chi si è per loredana? Questa è una bella insalata di pollo con provola affumicata, finocchio, lattuga e mais e maionese. Questi sono dei cacciocchi. Allora loredana di cacciocciola avevo accesso un miso e mezzo. Un miso e mezzo. Questi sono peperoni arrostiti, ma non sono di oggi. Questi sono anche due settimane. No, sì, proprio, due settimane. Quello che rimane me lo porto a casa io. Ma chi sta è peggidia, amore? Dalia che si è messi vicino, ma Dalia che si è messi vicino, l'hai visto che si è messi vicino? Qua ci sono belle, ormive, meravigliose. Ok, queste me le posso portare. Lori, ma sei peggiorito, ti vinta. Deborah, ma prima di conoscere da Armando, era così loredana? Il pane. No, vero? Ha pensato a Armando, vero? Iguale, a casa è a pensare di avere Armando. Allora, questo in Italia comincia da mangiare questo, che è quello di... Amore, ma perché abbiamo mirasteghisto loredana, l'opani non sanno? Perché è quello di mezzogiorno, due, non si buttano... Ma io sono tuo marito, mi devi trattare un po'... Allora, un e mezzo. Ah, grazie. Ha rimediato, Deborah. Va bene. Buona cena a tutti. Buona cena a tutti. Buona cena, buona cena. Ah, ricordiamo una cosa. Ragazzi, come mi è finita con i cristalli. Ricordiamo una cosa, stasera c'è la seconda puntata di Sanremo, ma appena finisce Amadeus con Sanremo, iniziamo noi, convince una canzone, io faccio il nuovo Amadeus. Ma venerdì, dopo domani... Un aperitivo con Loredana e Deborah. Terrazza dello Chef, ragazzino. A soli 15 euro, eh. Terrazza dello Chef San Pietro Clarenza, da Mavilla Chef. Chiamatelo Chef, ora vi pubblico entrambe le locantine. Ve le sto pubblicando, vabbè, buona cena. Io non vi servo, ragazzi. No, 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 non le serviremo. No, vabbè. Assolutamente. E... Che sei mai e ti chiudi, donna Reri, si continui di bene a sdepressioni, è inutile gati...